ciao come state oggi non mi trovate immerso negli archivi a cercare dei vinili ben si sono qui nel magazzino per vedere un po' la roba che c'è e che non c'è se funziona o non funziona dopo essere stata ferma per un anno a causa Covid perché finalmente gli eventi ripartono e quindi bisogna risistemare tutto quanto ma noi domani mattina come sempre ci vediamo alle ore 9 vi aspetto puntuali per un'altra diretta andrò a cercare anche dei vinili non so quale sia ancora il tema di domani mattina ma penso che questa notte mi verrà l'illuminazione io intanto continuo a mettere a posto mi raccomando vi voglio puntuali alle 9 a domani ciao ciao ciao